Sei marketer, purtroppo il suo del mio team ce l'ha fatta, però quando io penso a un risultato il risultato fa parte di un processo, il risultato fisicamente è ok, hai fatto quello, però sei un vero leader non mi ha soltanto risultato, mi ha anche tutto il percorso, quindi io devo dire che alcuni del mio team hanno messo impegno, cuore, capacità, però c'è stato uno in particolare che nonostante un lavoro notturno nonostante la giovane età, nonostante i mille casini, nonostante i quasi tutti i suoi marketer siano morti e questo poteva demotivarlo, ha continuato, nonostante i miei problemi, di essere lì, di essere in focus a formarsi e questo vale più di tutti i marketer che poteva mettere, perché con il suo impegno ha dimostrato che voglio riposarli, quindi ragazzi io lo stesso, anche se abbiamo fatto i 5 su 6, mi servirei di consegnare il biglietto di Düsseldorf VIP a Michael! C'è una cosa che non avevo aspettato, grazie! è una cosa che apprezzo tantissimo viene sicuramente dal cuore da un grande cuore e poi l'abbiamo fatta l'antigrafia è pronta ho capito che l'iconet non è solo un sistema per trovare un metodo alternativo al lavoro ma è una famiglia è una cosa che ti fa crescere è tutto un insieme di cose e sfruta la voce e con questa bella cosa direi che fino a me era visto il simbolo